Le imprese, i campioni e le pagine epiche dello sport di tutti i tempi. L'Oro di Lucca, l'ultimo libro del giornalista Paolo Bottari, ricapitola in 220 pagine la storia sportiva di Lucca e provincia dai primi del Novecento ad oggi, ma anche con appunti relativi alle competizioni che si svolgevano nei secoli precedenti. Corredato da foto d'epoca e riproduzioni degli articoli di giornale, il volume ci fa conoscere o riscoprire gli eroi dello sport lucchese, Versiliese e Garfagnino, del passato ma anche quelli di adesso. Di particolare interesse il capitolo dedicato agli impianti sportivi, dove si ritrovano campi da gioco ormai scomparsi e si conosce la storia di quelli attuali. Insomma tutto quello che un appassionato dovrebbe sapere sulla storia sportiva del proprio territorio. È stata una ricerca appassionante perché oltre alle cose di cui tutti abbiamo menzione ora, perché i campioni freschi di vittorie degli ultimi 20-30 anni forse li ricordiamo tutti. Meno sono invece quelli che hanno cominciato lo sport agli inizi, quando quasi nessuno lo faceva, e tutte quelle manifestazioni che hanno dato importanza e risonanza a livello nazionale e mondiale alla nostra città. Il libro sarà presentato ufficialmente venerdì 1 ottobre alle 21 all'ex Real Collegio a Lucca, alla presenza tra gli altri di due grandi protagonisti versiliesi del calcio, Marcello Lippi ed Eugenio Fascetti.